L'area del parco urbano che si affiancherà al Giardino degli Aromi, circa 10.000 metri quadrati, avrà un basso impatto ambientale. Muoversi nella direzione della transizione verde dell'economia locale, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, questo è l'obiettivo. Un progetto generale che si muove lungo queste linee di principio esiste già ed è vecchio di 30 anni. Si tratta di un progetto lungimirante che però non può essere utilizzato, spiega l'assessore Gianni Mauro, per un problema di coerenza amministrativa e finanziaria. Penso che sia più interessante avere un nuovo progetto, più che un vecchio progetto. Noi abbiamo approfittato dell'opportunità che ci ha dato l'Agenzia per la coesione, che ha dato dei contributi a tutti i comuni sotto i 30.000 abitanti, per fare un bando di progettazione. Questo ci permetterà di avere un progetto aggiornato, sia nei prezzi che per quanto riguarda le tematiche che sono proprio riferite in questo momento a quelle che è il PNRR. L'amministrazione di Cina afferma però che il bando è aperto, come logico che sia, anche alla proposta del vecchio progettista. In tutti i casi il vecchio progetto avrebbe avuto bisogno di un aggiornamento e quindi con dei costi a carico in questo caso della pubblica, del comune di Erice, con soldi comunali. In questo modo noi prendiamo, come si suol dire, due piccioni con una fava. Andiamo a avere un progetto a cui quel progettista che ha fatto quell'intervento può sicuramente partecipare, anzi avrà uno stimolo in più perché si confronterà con tanti, spero tanti, colleghi, architetti, ingegneri, agronomi, di quelli che vorranno partecipare e alla fine dovremmo avere ipoteticamente un prodotto che sia in linea con quello che il PNRR ci chiede.